E' tutto pronto a Corridonia per lo screening di massa gratuito promosso dalla Regione Marche per contrastare adeguatamente il contagio da Covid-19. E' un'iniziativa in cui crediamo fortemente, dice il Sindaco di Corridonia Paolo Cartechini. Come del resto dimostra il precedente screening gratuito per tutta la popolazione scolastica del nostro centro, dai 3 ai 18 anni e gli studenti locali che studiano nei comuni limitrofi per cui abbiamo stanziato 30.000 euro e che ha soprattutto condotto al risultato sperato del riscontro di nessun positivo. Ora l'attenzione si sposta sulla tre giorni che ci vedrà protagonisti dalle 8 di domani, martedì 2 febbraio, alle 20 di giovedì 4 febbraio per la quale ci siamo attivati con un grande spiegamento di forze con l'obiettivo di far emergere gli eventuali positivi asintomatici per evitare ulteriori contagi. L'evento si terrà alla tensostruttura di via Enrico Mattei nella zona industriale. Grazie.